Per questo paese, assolutamente sì. Di questa vicenda è un'ultima personale, lei che ne pensa? È stata coraggiosa la Presidente del Consiglio? Che è una vicenda personale, trovo scandaloso che un lavoratore durante un momento in cui non era in servizio sia stato ripreso arbitrariamente e bisognerebbe capire invece il datore di lavoro e la trasmissione che l'ha mandato in onda che cosa dovrebbe pagare a titolo di risarcimento. Lo saluto dei lavoratori vale per tutti. Io non trovo una questione legata all'alleanza. C'è una rete televisiva che ha mandato in onda una trasmissione che credo sia autonoma rispetto alla rete, abbia una sua autonomia e quindi dovrebbe rispondere per quello che è un'eventuale violazione dello statuto dei lavoratori. È una battuta, quindi è soddisfatta? Lei è un'elettrice di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia? Sì, al 100%, io sono di Fratelli d'Italia e al 100% certo lei e il nostro Presidente sono felicissima da che lei è stata eletta e fino adesso lo so che sta lavorando tantissimo e i risultati non è che li vedi in un anno già tuttumbung e in più come ha preso il Paese, perché lei ha preso il Paese, lo sappiamo tutti quanti, che era proprio allo sbaraglio. Quindi è duro il lavoro e sono felicissima che lei sta lavorando. L'immigrazione, però non è giusto che noi paghiamo da 1.200-1.500 euro al mese a questi signori, noi uomo fa niente neanche a pulire strade, a pulire cavitori, a pulire voce. I risultati mi sembrano del tutto evidenti. La Meloni intanto ha riportato l'Italia al centro dell'Europa, che credo che un Presidente del Consiglio dei Ministri abbia come scopo quello di tutelare i confini ideologici, merceologici, ma soprattutto di riportarla al centro dell'Europa. Quindi credo che, avendo ottenuto questo risultato, sia lavorando bene. Poi i sondaggi confermano una forte crescita, la sua franchezza mi pare evidente, è schietta, studia, è preparata. A Roma si dice che sta sul pezzo, in maniera simpatica ovviamente. Credo che questo servisse all'Italia.